E lo avevamo annunciato, è arrivato, è con noi negli studi di Radio Cusano Campus, qui nel campus dell'Università Nicolò Cusano, inviato a Carlo Gnocchi 3, il senatore di Ala, Vincenzo Danna. Buongiorno senatore. Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Mercoledì scorso abbiamo fatto le ragioni del no con Danilo Toninelli del Movimento 5 Stelle in vista di questo appuntamento referendario del prossimo 4 dicembre. Oggi facciamo le ragioni del sì con Vincenzo Danna, senatore di Ala. Buongiorno. Ricorderai sicuramente qual è stata la prima domanda che abbiamo rivolto a Toninelli la scorsa settimana. No, non me la ricordo però, se te la ricordi tu. Allora io me la ricordo, allora al senatore Danna, perché sì? Perché bisogna modernare lo Stato, perché siamo nell'era della tecnologia spinta e quindi della velocità. è come se noi volessimo vivere nel nostro quotidiano utilizzando ancora il telefono a gettone o il telefono con il centralino. e metterci per le leggi ordinarie di iniziativa parlamentare che non vengono fatte proprio dal governo, a volte 300, a volte 400, a volte 500 giorni, significa essere non nella condizione di governarla una nazione, ma di inseguirla, invece per governare dei processi politici a scopo sociale, no? Che la politica è il governo degli uomini camuffato dal governo delle cose, diceva Carletto Marx. Se tu vuoi governare una società che è così veloce, polietrica, devi avere gli strumenti legislativi per essere, non dico parimenti veloci, ma devi abbandonare quella serie di lacce e lacciuoli che vanno sciolti, altrimenti finisci con inseguirla alla società, non per precederla. Secondo lei cosa c'è alla base di tutti questi movimenti per il no? Un'antipatia nei confronti di Renzi o davvero la voglia di preservare intatta la nostra carta costituzionale? Guardi, senza offesa per nessuno, perché ognuno la può pensare come vuole, ed è bene anche dire che noi, pur avendo approvato la riforma con i canonici due terzi, tali che si poteva, in linea teorica, anche evitare di sottoporre questo quesito al referendum. E quindi è stata una scelta di voler interpellare il popolo, essendo la carta costituzionale, la fonte di tutte le leggi. Però dal versante del no, ho sempre sentito nel 90% dei casi, delle critiche che non avevano niente a che fare con la legge. Chi parlava del combinato disposto con la legge elettorale, chi si attarda a parlarci del governo, chi si attarda a parlare dell'antipatia di Renzi o delle sue manie di grandezza, chi come Bersani e soci, insieme a D'Alemo, ne fanno una partita interna al PD per indebolire chi ha tolto loro lo spazio e la maggioranza. C'è una concomitanza di cause nel fronte del no che non hanno quasi mai niente a che vedere con la legge di riforma in quanto tale, che può piacere o non può piacere, ma non dovrebbe assolutamente essere usato come uno strumento per raggiungere obiettivi che non hanno niente a che fare con la riforma della Costituzione. Ma è stata giusta, secondo lei, la scelta di interpellare il popolo sulla riforma costituzionale? Guardi, io non voglio sembrare uno che ha una scarso senso della democrazia. Una volta i comunisti, per chi non votava per loro, o per chi votava per loro si metteva nelle liste come indipendenti di sinistra e dicevano che è un sincero democratico. Mettevano questo aggettivo qualificativo. Quindi io non voglio sembrare cosa diversa da un sincero democratico, ma devo dire che su alcune tematiche complesse che richiedono una serie di conoscenze, una cultura di base e diciamo una vetutezza su determinate tematiche, è difficile poi applicarla alla democrazia. Nel senso che, anche con la Brexit, si vota, come dice Grillo, di pancia, ma non di testa. In questo senso è arrivato un messaggio, ricordo ai nostri ascoltatori che potete interagire con noi, 334-92-29-505, anche attraverso WhatsApp, è in studio qui nel campus dell'Università Niccolò Cusano, negli studi di Radio Cusano Campus, il senatore Diala Vincenzo Danna, stiamo parlando di riforma costituzionale, mercoledì scorso l'abbiamo fatto con Danilo Torinelli e il Movimento 5 Stelle, quindi abbiamo dato voce al fronte del no, oggi stiamo dando voce al fronte del sì. Ci scrive un ascoltatore, ma che ne sa il popolo di Cnell e Costituzione? Ha ragione Danna, 9 su 10 non sanno cosa sia il Cnell. A proposito del voto, probabilmente, è stato forse esagerato fare questo referendum? Devo dire la verità, non tutti sono in grado di avere quelle specifiche conoscenze che ti dovrebbero mettere nella condizione di poter esprimere compiutamente il tuo pensiero, anche se di converso dobbiamo dire che la propaganda televisiva e i dibattiti che quotidianamente si svolgono stanno squarciando un velo diciamo su una tematica che non è alla portata di tutta, diciamolo. E quindi credo che molta gente voterà sì o voterà no perché si è fatto un convincimento che non ha niente a che vedere con la riforma della Carta Costituzionale. Insomma è un po' utopistico pensare che tutti i cittadini andranno a votare poi completamente informati sul merito della riforma costituzionale. Noi scontiamo il concetto della democrazia così come ce l'hanno tramandato i Greci. Pericle diceva agli Ateniese non tutti sono in grado di governare la polis ma tutti sono in condizione di poter giudicare come la si governa. Ma ad Atene coloro i quali avevano l'esercizio del diritto di voto o praticavano la politica appartenevano a quei ceti in grado di governare Atene erano pochissimi. Il resto erano degli schiavi o dei liberti ma non erano cittadini che esercitavano il diritto di voto. Noi qua stiamo parlando della democrazia di massa di una testa o un voto e quindi presupporrebbe una testa o un voto che tutte le teste avessero la capacità cognitiva, culturale e il tempo e la volontà di interessarsi delle cose della politica. Ce l'hanno secondo lei, senatore? Credo non più del 15-20% della popolazione. In questo senso anche a microfoni spenti quando è arrivato parlavamo di Facebook di come sia un po' un canale di sfogo anche di bufale che hanno una grandissima visibilità anche attraverso i social adesso non parlando del referendum ma in generale ovviamente. Guardi, io sono d'accordo con Umberto Eco allora quando ebbe a dire che Facebook ha dato una tribuna a molti ignoranti cioè una specie di palchetto come quello di Hyde Park dove chiunque si può mettere su questo palchetto e può fare proclami al mondo intero forse è questa la democrazia e che però questo strumento ha una capacità di diffusione delle scemenze delle sciocchezze delle menzogne che è in grado di contagiare anche coloro che in buona fede leggono e sono i grini a credere ciò che leggono. D'altra parte la fortuna del Movimento 5 Stelle è dovuto proprio a questo progetto orchestrato dalla Casa Legge ed Associati di divulgare attraverso la rete una serie di scemenze una serie di parole d'ordine che alla fine poi si sono rivelate ecco senatore a questo proposito si è parlato tantissimo nelle scorse settimane di cyber propaganda su quel profilo di Twitter che poi si è scoperto essere in realtà della moglie di Brunetta ma ci crede lei a questa cosa oppure perché ad esempio ieri Esposito e Rondolino uno del PD l'altro dell'Unità ci hanno detto non ci non ci convince fino in fondo c'è qualcos'altro dietro a questa storia devo dire la verità non è che mi appassioni di quai ne fa già abbastanza il marito perché ci si mette anche la moglie ancora un sms per lei siamo con Vincenzo Danna potete scriverci al 34 92 29 505 anche attraverso Whatsapp questa è la democrazia che forse tanti italiani non capiscono e non meritano scrive Lino in riferimento al suo discorso di prima sulla democrazia cognitiva così l'ha chiamata guardi io non voglio sembrare neghittoso voglio sembrare diciamo sussegoso ma quando Prezzolini se ne andò in America vennero degli attivisti del partito repubblicano ad invitare Prezzolini che dirigeva l'istituto italiano in America per invitarlo a votare Prezzolini li fece accomodare nel suo studio e l'accompagnò alla finestra e mostrò loro un barbone che dormiva su di una panchina al piano al piano sottostante e disse io mi rifiuto di partecipare alla votazione se il mio voto è uguale a quello di quel barbone è un paradosso chiaramente però la democrazia di massa ha questo questo grande limite che è quantità e non è qualità d'altro canto non è che i nostri bisnonni nell'ottocento fossero meno democratici di noi limitavano l'esercizio del voto per casta e per censo perché ritenevano anche chi fosse soggetto al bisogno non fosse libero di poter esprimere il proprio voto così come chi non era alfabetizzato era analfabete era ignorante non era in grado di potersi esprimere con cognizione di causa poi c'era anche la limitazione per le donne che essendo soggette al marito all'epoca soggecevano diciamo alle direttive del marito quindi si erano posti il problema di depurare di questo aspetto meramente quantitativo la democrazia noi a torto a ragione io credo a ragione abbiamo scelto la democrazia nell'accezione più vasta della partecipazione e ci dobbiamo sorbire anche il rovescio della medaglia ricordiamo ai nostri ascoltatori che è con noi oggi in studio il senatore di Ala Vincenzo Danna e a quelli che dicono dal fronte del no che la democrazia è a rischio con questa riforma costituzionale perché calerà drasticamente il potere di scelta che avranno i cittadini vede questa è un'altra grande cosa che non ha alcuna attinenza con la riforma è il famoso combinato disposto con la legge elettorale non è stato toccato di una virgola l'articolato che riguarda i poteri del presidente del consiglio e del governo oggi ha più potere un sindaco che il presidente del consiglio perché il sindaco si può scegliere gli assessori e li caccia anche se non si sono mostrati all'altezza del compito e del ruolo loro affidato su base fiduciaria il presidente del consiglio non può scegliersi neanche i ministri né li può cacciare senza l'avallo del presidente della repubblica che li nomina e li revoca quindi non avendo modificato in alcun modo la carta costituzionale per quanto attiene questi aspetti questo rischio di maggiore autoritarismo da che cosa dovrebbe derivare poi se mi consentite in Italia noi scontiamo se c'è uno dei limiti della carta costituzionale è che quando questa è stata fatta è stata fatta come espressione di un compromesso il migliore possibile tra le forze socialcomuniste e le forze cattoliche e liberali facendo una sintesi molte volte anche in contraddizione noi abbiamo una costituzione tanto per citare un esempio molto semplice che non parla né del libero mercato di concorrenza né della libera iniziativa eppure sono due pilastri ormai accettati da tutti dalla destra alla sinistra perché la stessa proprietà e la stessa libera iniziativa sono devono soggiacere alla sussistenza dell'utilità sociale quindi questa sintesi tra capitalismo e socialismo e alla fine gli stessi costituenti sapevano bene che in quel momento bisognava evitare una guerra civile in un paese spaccato esattamente in due che usciva da una guerra che usciva da 20 anni di dittatura per cui si è concepito uno strumento in cui tutti potevano partecipare ma nessuno poteva decidere nelle democrazie occidentali tipo quella americana nella sala ovale del presidente dell'America degli Stati Uniti c'è un cartello dove è scritto lo scaricabarile finisce qua cioè tutti gli errori tutte le manchevolezze dello Stato possono essere ricondotte alla responsabilità del presidente qua questo cartello voi non lo potete affiggere in nessuno dei luoghi dove si esercita il potere statale Senatore intanto ricordo i nostri ascoltatori che possono scrivere 734-92-29-505 gli ricordo che negli studi di Radio Cusano Campus oggi il senatore di Ala Vincenzo Danna apro una parentesi importante perché nel pomeriggio nel Campus dell'Università degli Studi Niccolò Cusano qui in via Don Carlo Gnocchi 3 ci sarà una nuova interessante iniziativa proprio del nostro Ateneo della Facoltà di Psicologia a partire dalle 14 regista Luca Miniero regista tra le altre cose di Benvenuti al Sud Benvenuti al Nord la scuola più bella del mondo non c'è più regione l'attore Massimo De Lorenzo il lato di Bambini a lupo a lupo perdiamoci di vista c'è chi dice no solo per citare alcuni dei suoi film incontreranno gli studenti e il pubblico nell'aula magna della Cusano per il primo di una serie di appuntamenti dal titolo La Psicologia e il Cinema al centro dell'incontro con Maniero De Lorenzo il cortometraggio Piccole cose di valore non qualificabile diretto da Luca Miniero e Paolo Genovese in cui una ragazza denuncia il furto di tutti i suoi sogni analisi del messaggio del film dell'Università Nicolò Cusano la preside Gloria Di Filippo il professor Salvatore Gullo la professoressa Caterina Dardia la professoressa Nicoletta Vegni e il professor Alberto Costa l'incontro è a ingresso libero fino all'esaurimento posti e sarà trasmesso live dalla pagina Facebook dell'Ateneo quindi dalla pagina Università Nicolò Cusano e anche dalla radio a partire dalle 14 quindi questo bel appuntamento il primo di una serie di incontri con tematica la psicologia e il cinema qui nel campus l'Università degli Studi Nicolò Cusano inviato a Don Carlo Gnocchi 3 Senatore volevo aprire una parentesi sul referendum tornare a qualche giorno fa si è arrabbiato molto con il fatto quotidiano che ha scritto che lei è il grande sponsor di De Luca la sanità campana è vera questa cosa? No guardi noi ci siamo prima lamentati di coloro che fanno propaganda per il no e di tutto parlano tranne che della riforma abbiamo poc'anzi parlato di questo presunto aumento dell'autoritarismo questa è un'altra scemenza cioè ci sono giornali che pur di delegittimare dequalificare criticare incorrono poi non di chi delle inesattezze ma messero pescono le torbido in effetti quel fuori onda carpito da una trasmissione è un colloquio tra me e due presidenti delle associazioni di categoria Convindustria e l'IOP che è l'associazione delle case di cura accreditate e io che sono presidente di Federlab che è l'associazione maggiormente rappresentativa che raccoglie le strutture ambulatoriali in Campania sono quattro anni che le prestazioni contrattualizzate con le 1200 strutture accreditate che erogano il 60% delle prestazioni necessarie in Campania con un costo che va da 3 a 5 volte in meno rispetto alle prestazioni prodotte nell'analogo comparto a gestione statale tanto per capirci perché di qua si paga tariffa nello Stato si paga piediliste quindi solo Dio sa quella stessa prestazione alla fine quando verrà a costare ci siamo fermati nel mese di ottobre e i cittadini della Campania che costa di 6 milioni di abitanti è grande quanto il Belgio tanto per capirci si devono pagare analisi radiografie visite specialistiche riabilitazione fisiochinesi terapia perché i detti di spesa quindi gli stanziamenti destinati alla sanità privata non sono mai stati più aggiornati nella programmazione da almeno 12-13 anni ne l'hanno fatto questi due commissari governativi che sono venuti in Campania a fare gli esecutori fare gli esattori delle tasse per conto del Ministero dell'Economia fregandosene De Luca che cosa voleva fare voleva prendere 30 milioni dal bilancio della regione cosa che la legge prevede per destinarlo a quelle categorie i malati di cancro i portatori di handicap i dializzati i diabetici cioè queste categorie con patologie croniche perché potessero ricevere assistenza dalla rete delle strutture accreditate fino al 31 di dicembre quindi non c'era niente sul quale poi mestare e ci hanno mestato intorno dicendo che c'era una specie di pattuizione tra me e di Luca la pattuizione tra me e di Luca è nobile è alta ed era la pattuizione di chi si preoccupa io sotto il versante dei 10 mila addetti ai lavori di queste migliaia di strutture e di Luca come presidente della giunta regionale si preoccupa di non far pagare i cittadini e anche i malati cronici e i malati gravi prestazioni che in uno stato serio dovrebbero essere erogate per 365 giorni all'anno 334 92 29 505 vi ricordiamo il numero per gli sms potevo utilizzarlo anche su whatsapp per inviare domande al senatore vincenzo d'anna senatore di ala che è venuto a trovarci qui negli studi di radio cusano campus sul piano politico senatore comunque andrà il prossimo 4 dicembre voi resterete dalla parte di Matteo Renzi guardi devo dire la verità se avessi avuto qualche dubbio perché bene precisare che noi di ala non abbiamo votato tutti i provvedimenti del governo noi abbiamo votato alcuni provvedimenti che erano di stampo liberale e andavano nel senso di riformare alcuni comparti il lavoro la scuola il pubblico impiego la costituzione il famoso programma dei mille giorni il programma dei mille giorni che è un programma in molti punti sovrapponibile al vecchio programma della rivoluzione liberale del 1994 redatto dai Pera dagli Urbano dai Martini dai Lucio Colletti dai Paolo ci dice che Renzi per larga parte è sovrapponibile a Berlusconi al primo Berlusconi no ecco in qua fate i giornalisti pure voi perché tentate di eludere il problema e di fare la dicotomia che piace Mazzola Rivena è una cosa che ci appassiona ancora ieri Crozza che aveva davanti Berlusconi e tornato a fare le battute questa riforma di Berlusconi Renzi non l'ha citata la verità è un'altra che Renzi ha capito le cose che non hanno capito ancora Speranza Godor Bersani la minoranza non l'hanno capito perché sono rimasti comunisti nella testa non hanno più capito che lo Stato pauperistico assistenziale che viene governato con la leva della spesa pubblica a debito crescente non è più possibile realizzarlo per cui chi si pone il problema con uno Stato indebitato fino al collo che ha le prime quattro voci di spesa che sono così composte 320 miliardi le pensioni circa 200 miliardi gli stipendi 110 miliardi la sanità e più di 80 miliardi di interessi passivi su 2.200 miliardi di euro di debito queste sono le condizioni nelle quali oggi si trova ad operare chi governa il che significa che dovendo rispettare i parametri di Maastricht tra il debito e il prodotto interno lordo non potendo noi più battere monete e quindi inflazionare la moneta aumentando stipendi e pensioni a scapito dell'inflazione siamo costretti ad una politica di pareggio del bilancio e di diminuzione del debito punto tutto quello che serve per rilanciare l'economia per abbassare le tasse per dare diciamo avviare la stagione di grandi opere infrastrutturali che servono da volano economico bisogna tagliare il grasso che cola nei mille tentacoli di cui è composto lo Stato massimo questo Stato che è criptosocialista come criptosocialista la carta costituzionale perché è figlia di quella sintesi di quella intesa tra i liberali e i socialcomunisti cioè alla fine questo Stato leviatano che mangia circa il 50% dei redditi dei cittadini perché poi li sprechi in mille rivoli non può più esistere per cui è gioco forza che chi si pone il problema di governarlo per farlo uscire dalla crisi non può che governarlo in senso liberale perché nel senso socialista è stato già governato per 50 anni archiviati De Gasperi Sturzo e tutti gli altri il resto è stata la democrazia cristiana dei Moro dei Don H. Penn della triplice sindacale che dettava le linee di governo dei grandi giornali come Repubblico con Eugenio Scalfri anche gli socialista cioè alla fine negli ultimi 40-50 anni lo Stato è stato governato spendendo soldi che non si avevano da questo viene il debito pubblico o pensate che sia stato un fulmine durante un temporale che ha cancellato i conti o vogliamo pensare alle scemenze dei 5 Stelle che sono gli stipendi dei parlamentari adesso ci arriviamo ai 5 Stelle tra firme cose varie insomma dette anche e soprattutto in questi ultimi giorni tra poco ci arriviamo al capitolo 5 Stelle però volevo capire quindi era un sì nel senso comunque vada se Renzi continuerà comunque a manifestare interesse nei confronti di queste politiche liberali voi resterebbe dalla sua parte se questo giovanotto chiamiamolo così perché ha 25 anni meno di me ha capito il senso delle cose e non ha l'ambizione di galleggiare di sopravvivere a se stesso come è stato il caso di molti suoi predecessori compreso lo stesso Berlusconi che ha pensato più a sé che alla rivoluzione liberale ci siamo? sì e a questo punto questo giovane è l'unico che in Italia spinge per una politica di reale cambiamento e di superamento per quanto è possibile dei mille lacci e lacciole dello statunismo però deve liberarsi dei gotorra dei dei bersani ma si deve liberare di tutti quelli che hanno una visione dello stato che è anacronistica perché non ci sono più gli strumenti per lo stato socialista non ci sono i soldi senta invece se vince il no fa bene a dimettersi secondo lei ma secondo me fa bene a dimettersi perché lo andiamo ripetendo io lo ribadisco qui e ora per la millesima volta se vince il no noi ritorniamo nel pantano perché immagini del che vince il no il 5 dicembre il principale partito politico che è il PD che vede sconvitti il suo segretario avrà e che ha la maggioranza dell'80% nel partito e quindi negli organi decisionali non accetterà il governo tecnico di nessuno chi più di Renzi poteva governare e governare bene perché deve venire il Pado o il Monti di turno ci andiamo a votare andiamo a votare con un senato risuscitato e perché questa è un'Italia tripolare un centrodestra un centrosinistra e diciamo i grillini noi al senato non avremo matematicamente già matematicamente determinato una maggioranza per cui il futuro governo dopo le elezioni dovrà essere un governo di solitarietà nazionale cioè ci troveremo nelle stesse condizioni in cui si è trovato prima Bersani e poi eletto questo dopo le elezioni dopo le elezioni quindi sta storia andiamo a votare ma anche dopo le elezioni ma se prima si fa una legge elettorale si rifà la legge elettorale ma al senato tu non tu non vuoi cambiare la modalità perché è prevista in costituzione che il senato sia su base regionale quindi se non cambi la costituzione al senato devi comunque votare con questo sistema puoi cambiare le modalità alla camera puoi introdurre le preferenze puoi fare quello che vuoi ma al senato chi prende un voto in più si aggiunge il 60% dei seggi attribuiti a quella regione e gli altri si dividono il 40% e così via quindi in un certo senso lo ricordo ai nostri ascoltatori siamo con il senatore di Ala Vincenzo Tanna stiamo facendo le ragioni del SIA referendum mercoledì scorso abbiamo fatto con Danilo Torinelli del Movimento 5 Stelle le ragioni del no secondo lei Tanna in un certo senso l'allarmismo che sta arrivando anche dall'Europa il Financial Times che ha detto se vince il no otto banche a rischio fallimento rischio in pass rischio immobilismo sono tutti questi in qualche modo allarmi giustificati guardi i mercati sanno prima le cose perché le vedono prima perché laddove ci sono i soldi ci sono gli interessi c'è tutta una rete di cervelli di informazioni e di intelligenze al lavoro sì ci siamo? se è vero quello che io ho poc'anzi detto che la vittoria del no innesca un processo destabilizzante che può portare alle elezioni e che dopo le elezioni al Senato mancherà una maggioranza perché è statuito nella carta costituzionale qual è la modalità di attribuzione dei seggi al Senato andremo faremo un passo indietro di quattro anni e ritorneremo in un governo di larga maggioranza determinato al Senato non alla Camera alla Camera puoi mettere quello che vuoi il premio di maggioranza puoi modificare l'Italicum come vuoi è al Senato che non si avrà una maggioranza e quindi i mercati sono preoccupati perché un paese che torna indietro non va avanti e questa cosa certo non va bene all'economia e dobbiamo leggere in questo senso anche diciamo i segnali tra virgolette d'avvertimento che sono arrivati sui mercati negli ultimi giorni o c'è qualcuno che effettivamente ci guarda con attenzione e sta speculando su questa situazione del nostro paese guarda noi dobbiamo dire un'altra cosa che per televisione non si sente molto spesso dire chiaramente se noi non piazziamo i titoli del nostro debito pubblico con i botti cct trimestralmente venduti noi non siamo in grado di pagare le pensioni e gli stipendi ma questa è una bomba danna e lei ci sta non è una bomba ma lo sanno tutti solo che fanno in modo da non farlo capire a tutti per cui gli investitori internazionali che sono gli Hegel Fund i fondi pensioni cioè sono non dei soggetti sono una moltitudine di soggetti che investe i propri soldi quello della propria pensione della propria buonuscita delle proprie piccole rendite laddove queste possono avere due caratteristiche rendere meglio ed essere più sicura che se lei dà dei soldi a me pretende degli interessi che siano più alti di quello che le darà un'altra persona e li dà a me se io sono solido quindi i suoi soldi sono affidati in mani sicure uno stato traballante già pieno di debiti come il nostro che ferma il processo di ammodernamento e di riforma che cade nell'incognito di elezioni anticipate per tornare indietro con un senato senza maggioranza in un pateracchio che si chiama governo di solidarietà pubblica di larghe intese dà più garanzia o meno garanzia agli investitori internazionali quindi semplificando se vince il no se vince il no a rischio pagamento di stipendi e pensioni no no questa è una sintesi ardita per la quale poi si guadagnerebbe una serie di attacchi da parte di tutti nelle prossime noi ci troviamo nelle prossime ore questa è una sintesi ardita non ho detto che se vince il no non paghiamo anzi ho detto per far capire l'importanza dei mercati no perché c'è gente che quando parla poi delle banche dei mercati parla come se noi ci potessimo permettere il lusso di strafregarcene dell'opinione degli investitori internazionali in questo senso qua io dicevo sì attenzione se noi non collochiamo i nostri titoli corriamo il rischio di non poter avere il denaro per pagare pensioni e stipendi quindi sta storia che io sento dire legata ai poteri forti ai cosiddetti poteri forti i poteri non sono forti non sono occulti sono i poteri economico finanziari che vengono nelle società evolute ovvero nelle società capitalistiche punto io non compro più i titoli di Stato italiano ma vado a comprare quello che è successo in Grecia vado a comprare i titoli di Stato in Spagna perché lì c'è una situazione economica migliore c'è una maggiore stabilità politica si va verso riforme di sistema che migliorano la condizione tra la produzione e il debito dello Stato quindi mi sento più garantito negli investimenti e quindi vado ad investire laddove sto più tranquillo c'è un SMS di Maurizio altre 3 4 92 29 5 0 5 glielo giro in tempo reale mi scusi senatore ma le sembra giusto ricattare gli elettori con il dire o si cambia la Costituzione o sarà la catastrofe la Costituzione rimane i governi no questo scrive un ascoltatore Maurizio guardi noi non desideriamo ricattare nessuno a chi ci fa una domanda cosa succede se vince il no dobbiamo pur dire quali sono a cascata le cose che noi prevediamo perché il fronte del no che è una variegata gamma che è composto da una variegata gamma di soggetti Lega Fratelli d'Italia Forza Italia Movimento 5 Stelle Sinistra Econogia e Libertà Partito Marxista Leninista d'Italia Casa Pound è che più ne ha più ne metta nel momento in cui avrà vinto invocherà con la demagogia che poi è tipica in Italia il fatto che Renzi si debba dimettere perché non è più maggioranza del paese lunedì mattina tutti tutti questa questo coacervo diciamo così di persone invocherà queste cose vero è che questo non ha niente a che vedere con il governo Renzi potrebbe rimanere tranquillamente al suo posto però Renzi forse con leggerezza forse sbagliante ma con grande senso di responsabilità ha detto io sto qua a 40 anni per riformare non sto qui a 40 anni per galleggiare e per sovravvivere a me stesso se l'Italia la volete cambiare io resto se l'Italia non la volete cambiare io me ne vado la fuoriuscita di Renzi non è come pensano quelli del no un elemento che faccia bene all'Italia che stabilizzi e rassicuri i mercati che crea le condizioni per governi più stabili e più qualificati è l'esatto contrario lo possiamo dire certo per l'amor del cielo ma senza darle responsabilità a tutti quelli che votano per il no i quali legittimamente possono ognuno poi fa la propria scelta voi volete riformare ma state riformando in un modo che a noi non ci piace potreste riformare diversamente allora c'è il tempo che purtroppo ai me corre veloce siamo quasi arrivati al momento dei saluti è con noi il senatore Diala Vincenzo Danna avevamo detto che avremmo aperto il capitolo dedicato al Movimento 5 Stelle e allora apriamolo che momento è questo per i grillini per il Movimento 5 Stelle Danna molti stanno dicendo si sta dimostrando un vero partito un partito come tutti gli altri in queste settimane guardi allora premesso che il Movimento 5 Stelle altro non è che vittima della propria demagogia e di questa orchestrata campagna che la Casa Legge Associata ha fatto nel corso degli anni attraverso il web e Grillo invece sulle piazze raccontando cose inesatte cose false e cose profondamente sbagliate cioè in effetto loro hanno offerto risposte semplici a domande complesse che è la prerogativa dei qualunquisti fuori al bar siamo tutti direttori tecnici della nazionale avremmo imbroccato la formazione e avremmo vinto il campionato del mondo in dieci minuti conseguenzialmente al sussiego con il quale ognuno di noi si ritiene il migliore degli allenatori al mondo avremmo senz'altro vinto ogni volta il campionato del mondo loro hanno fatto in politica la stessa cosa e faccio degli esempi perché noi alla gente lo dobbiamo far capire perciò io ho delle polemiche e i personalismi che alla fine alla gente non capisce niente hanno detto che con gli stipendi perde legittimare il Parlamento e i parlamentari hanno detto che era un coacervo di ladri che tutti i parlamentari erano dei deficienti tutti erano dei latri potenziali anzi Casaleggia diceva che bisognava abolire il principio costituzionale della presunzione di innocenza che bastava il solo sospetto poi vanno dai pubblici ministeri e si avvalgono della facoltà di non rispondere che tutto doveva avvenire in streaming che la politica doveva essere trasparente e assoluta sono diventato talmente trasparente che non si vedono più perché hanno fatto un direttorio di 4-5 persone scelte dall'alto come avveniva nell'unione sovietica di Stalin cioè sono un partito insieme alla Corea del Nord ma è morto pure Fidel Castro ci auguriamo che anche a Cuba ci sia una democrazia reale sono rimasti Grillo Di Maia Di Battista è il dittatore della Corea Kim Jong-un Kim Jong-un perché li associa abbiamo un minuto siamo in chiusura li associa perché alla fine non hanno uno statuto non hanno delle regole democratiche tranne le scemenze sul web che votano 30 persone per stabilire chi debba fare il presidente della Repubblica siamo andati a vedere che gli stipendi dei parlamentari sono di 150 milioni all'anno sono un decimilionesimo del bilancio dello Stato 0,701 abbiamo detto che sono tutti ladri tutti imbroglioni e invece non è così i ladri e gli imbroglioni stanno dappertutto stanno pure nel Movimento 5 Stelle e più quote di potere acquisiranno più saranno permeabili ai ladri e gli imbroglioni che i ladri e gli imbroglioni si muovono per interesse mica per ideologia allora tutte queste cose che lo Stato andava abbattuto che le istituzioni non servivano ma la cosa più grave così mi consentirete di chiudere in bellezza è che esisteva una morale diversa dalla morale contenuta nelle leggi cioè che dicono i grillini non mi interessa che tu hai fatto questa cosa ma non hai violato la legge secondo la mia morale se è comunque riprovevole se è comunque da condannare perché esiste la morale del Movimento che è una cosa da far tremare le vene ai polsi è come se io dicessi ad un medico che non è obiettore e che quindi pratica l'aborto terapeutico nel rispetto delle leggi io lo ritenessi indegno impresentabile alle elezioni politiche per loro basta che uno ha ricevuto un avviso di garanzia che si chiama avviso di garanzia e diventa subito un impresentabile sulla base non di quello che dice la legge ma sulla base di un'etica superiore che sarebbe un'etica partorita all'interno di un sistema che somiglia a quello della Corea del Nord e non quello degli Stati Uniti d'America per libertà di pensiero allora sono delle persone che camminano portando sulle spalle il peso delle loro chiacchiere delle loro bugie e delle loro contraddizioni quindi tutto ciò e me ne frega che hanno copiato le firme non penso che abbiano fatto niente di male non è quello il punto ma diventa il punto per loro che hanno propagandato una morale superiore a quella contenuta nella legge diceva Hegel che nello stato di diritto la morale di siete nella legge noi siamo obbligati ad avere comportamenti legali quando abbiamo rispettato la legge non siamo più censurabili invece secondo Grillo vale la morale che del movimento viene prima di quella della legge allora anche se hanno rubato una mela in un supermercato per me devono avere l'ergastolo per le scemenze che hanno detto prima perché prendono il 25% dei voli secondo la loro stessa per questa loro stessa modo di essere e di propagandare la politica siamo arrivati al momento dei saluti il tempo è tiranno tanto tornerà a trovarci senatore perché qua è stata la fine del mondo facciamo un appello perché con delle donazioni diciamo cospicue questa radio si possa trasferire un po' più verso il centro di Roma io ho pagato 27 euro di 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 tassi altri 27 poco che me ne vado sono 55 ma qua perché il campus della Cusano ha riqualificato un quartiere ma perché questo fa parte delle spese accessorie anche queste diarie io come senatore sono venuto qua ci rimetto 120 euro oggi perché è mio dovere di parlamentare venire qui a rispondere alle domande dei cittadini l'avrei risparmiato eh lo so ma abbiamo riqualificato tutto il quartiere qui con il campus della Cusano stupendo ha visto che bello il rettore della Cusano e tutti insomma i soci titolari trasferiscono Radio Campus al centro ma che dice benissimo siamo in espansione qui mettete anche dietro Arduino che ha la voce più flebile quando l'ho visto caspita ma questo sta in forma Arduino adesso però arriva Annalisa Colavito che al programma subito dopo di noi ci pensa lei praticamente a dimagrirlo va bene grazie ancora al senatore Diala Vincenzo Dana che è venuto a trovarci oggi negli studi di Radio Cusano Campus grazie senatore buon lavoro buon lavoro senatore ragazzi non studiate molto no ma senatore vai se è scatenato nel momento dei saluti perché non devono studiare devono studiare i ragazzi i ragazzi devono studiare ma devono imparare dalla vita anche è importante tutte e due le cose quindi devono trovarsi la fidanzata presto devono devono vivere prima